Sono sempre più contento di esserci, sono anche sempre più contento che il tempo ci sia e che nel tempo ci sia io, ossia che il tempo passi e io passi il tempo, passi me, cioè contento di essere contento nel tempo, anzi il contenente, insomma disegnare con esserci io, il passare del tempo e questo dovete riconoscere che comincia a mettere addosso il senso dell'attesa, di una lieta speranzosa attesa, anzi dell'impazienza, una festosa impazienza, una festosa eccitata, impazienza, giovanile e insieme un'ansia, una giovanile anzi eccitata, in fondo dolorosa, una dolorosa, insostenibile, tensione e impazienza. Bisogna inoltre tenere presente che esserci vuol dire anche stare nello spazio e io infatti, scodellato nello spazio quando ero largo, con lo spazio tutto intorno che sebbene io non avessi condizione si capiva che continuava da tutte le parti, lo spazio che adesso non mi importa sta di a guardare cos'altro conteneva, io stavo chiuso a me stesso e facevo i fatti miei e nemmeno avevo un naso per mettere fuori il naso.